finito all'ospedale e si trova ricoverato con fratture alle ossa nasali. Eccolo qui che esce in barella. La partita è stata bella, almeno fino a quando la visibilità e il terreno dello stadio Friuli ha permesso di giocare al calcio nell'Udinese esordio stagionale di Collovati, mentre nella Sampdoria ritornava Serezo. Questo è un duetto fra Vialli e Salsano con l'uscita di Abate. Gioco quindi nel primo tempo soprattutto, ecco un tiro di Graziani deviato. Poi vedremo ora Briegel, un tiro di Briegel che passa però al lato. Ed ecco la grande occasione dell'Udinese sulla fine del primo tempo, il tiro di Edigno e il palone che va a finire sul palo. Del secondo tempo ti mostro ancora questo calcio d'angolo con Bistazzoni che precede.